ecco ora pianifichiamo la missione, la rapina ci sta spiegando che la lavagna serve per impostare le rapine, chi comanda, com'è il colpo, chi ne fa parte, gli altri giocatori sto cazzo a Lester gli tira un po' il pisellino dopo aver visto questa qua dai Lester fai andare un po' col martello a Lester fai andare fuori la lista, deve essere metodico, questo non è solo un crimine dottore c'è un elemento di questo, e quando hai la macchina, torneremo qui e parlare di banca banca, banca ok quindi adesso probabilmente devo rubare l'auto qua mi sta dicendo che prima di completare le rapine devo completare le preparazioni giustamente ok qua mi spiega dove ci sono tutti gli equipaggiamenti con armi completi per i colpi, per le rapine ok 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 allora qui avviamo la missione perché ho l'unica disponibile si parte ma che cazzo ma come cazzo mi hanno vestito ma porca troia ma sembro boh ma dio boh ma si potrà vestirmi così questo è bello questo è bello uh che belle maschere ma con me con scotch ah 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 ah, stile Sant'Andreas ma come cazzo si fa a fare una maschera groh io la faccio così? la rapina vaffanculo Questa è bella Vinicolo Batti E si comincia Dai sali E' già che mi hai buttato giù la moto No Ok già una vita di meno Ok già un po' Grazie a tutti. 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 This is the one for us. E anche questa è fatta. Grazie a tutti.